Recensione a volo di questa EasyWiz CB2, la telecamera di videosorveglianza più piccola al mondo con una batteria integrata da 2000 mAh. Questo ci permette di avere una connessione wireless con il nostro dispositivo, inoltre non dobbiamo necessariamente agganciare un cavo per alimentare la telecamera. Inoltre hanno adottato questa base magnetica che vi permette di fissarla senza necessariamente utilizzare il trapano. E' una versione molto familiare, perché? Perché è praticamente l'evoluzione della versione BC2. Nella versione BC2 abbiamo praticamente la stessa forma, design e anche qualità immagine. E cosa cambia nella versione nuova? Abbiamo praticamente una porta di tipo C, prima avevamo la micro USB, abbiamo un miglioramento per quanto riguarda la micro SD. Di prima avevamo un supporto massimo fino a 256 GB, adesso abbiamo un supporto fino a 512 GB, praticamente il doppio. Ed è stato anche migliorato il magnetismo della base qui nella parte posteriore, fino al 200% in più rispetto al modello precedente. A livello di materiali ho percepito anche una leggera qualità superiore e abbiamo anche questa colorazione bianca che sinceramente non mi dispiace con il mio arredamento. La scatola rimane sempre la medesima, ci racconto un po' le specifiche principali di questa telecamera, che ha di speciale di essere piccola, compatta, con una batteria. E' una versione che secondo me ha un grande senso e tra poco vi dirò il motivo perché dovreste acquistarla quando invece non serve. All'interno abbiamo tutto il necessario per utilizzarla fin da subito con manuali, con tutte le informazioni riguardo il prodotto. Il cavo come vi ho detto è stato cambiato, abbiamo da micro USB a tipo C e abbiamo due tipi di supporti che ci permette di fissare questa piastrella. Questa piastra in metallo nel caso in cui dovessimo posizionare la nostra telecamera non c'è il punto magnetico, ecco possiamo utilizzare lui. E ci danno anche eventuali viti per fissarlo ma come abbiamo detto loro ci danno anche comunque una versione senza necessariamente fare i buchi al muro. E questa è una grandissima cosa per una facile installazione e quindi non necessariamente definitiva. Se un giorno decidiamo di rimuoverla possiamo tranquillamente farlo. Confezione devo dire completa come al solito e abbiamo la completa compatibilità anche con l'assistente vocale di Amazon. Infatti possiamo chiedere all'assistente vocale e mostraci la telecamera e la telecamera viene mostrata. A livello di qualità per chi non dovesse conoscere questo prodotto parliamo sempre di 1080p 2 megapixel con sempre riconoscimento dei volti quindi possiamo decidere attraverso la telecamera se avvisarci. Effettivamente è una persona oppure un semplice rilevamento peer che riesce a raggiungere fino a circa 5 metri anche grazie agli infrarossi che vi permette di vedere sia di giorno sia di notte. Gestione che avviene completamente in automatico quindi quando è notte la nostra telecamera in automatico passa in modalità notturna. Abbiamo anche l'audio bidirezionale quindi possiamo comunicare e ascoltare e direi anche di parlare alla fine della batteria. La batteria quanta autonomia ci dà e per chi è pensata questa telecamera? La batteria riesce in stato di ibernazione significa che voi non andate a utilizzarla ma semplicemente ogni tanto andate lì in modalità live per vedere se succede qualcosa ma sempre parlando di secondi riesce a raggiungere i 50 giorni. Ma 50 giorni diciamo sono molto molto da test di laboratorio. Io direi in quella modalità ibernazione con un utilizzo randomico ogni tanto riuscite a fare tranquillamente un mese. Probabilmente però molti di voi come nel mio caso lo utilizzeranno per registrare anche dei contenuti e avete diverse scelte. Innanzitutto voglio farvi vedere la telecamera. Non so se avete sentito ma comunque abbiamo l'audio e io stesso posso parlare qui all'interno tramite chiamata in corso. Posso iniziare a far sentire la mia voce. Ovviamente adesso disattivo altrimenti c'è l'eco. Possiamo registrare e fare foto che rimangono memorizzati non solo nella micro sd ma direttamente nel telefono. Per esempio abbiamo in quel momento colto il ladro con le mani nel sacco. Ecco possiamo fare foto e video in questo istante. E possiamo anche ridurre la telecamera per l'utilizzo dello smartphone anche con la funzione accesa. Adesso andiamo nelle impostazioni in questa maniera e vi faccio vedere cosa abbiamo di interessante. Abbiamo diverse modalità operative. L'operazione registrazione H24. Cosa significa? La telecamera registra sempre occupando tutti i 512 giga. Io adesso non vi so dire esattamente quanti giorni riesce a salvare i 512 giga. Vi posso dire che secondo me considerando i test che ho fatto con la precedente probabilmente anche un mese di registrazione riuscite a farla. Ma anche perché ha un codec che gli permette di fare video molto compressi. Alte prestazioni vi permette ecco in questa modalità senza nessun cavo quindi registrando in continuazione riuscite a fare più o meno 12 ore di registrazione. Nella modalità risparmio energetico invece che cosa succede? In questa modalità la nostra telecamera effettua delle registrazioni solo in caso di rilevamento di movimento. Quindi in questo caso non registra in continuazione, consumiamo molta meno batteria. Io facendo circa 50 attivazioni al giorno ho rilevato che più o meno ha 4-5 giorni di autonomia con questa modalità che non è affatto poco. La modalità poi quella che vi permette effettivamente di andare a avere forse quei 30-50 giorni di autonomia è impostare alto risparmio energetico. In questo caso praticamente la telecamera non funziona in nessun modo ma semplicemente solo voi quando accederete all'interno dell'applicazione avrete la possibilità di vedere che cosa sta succedendo. Quindi c'è giusto quel consumo della connessione internet. A livello di rilevamento intelligente che cosa abbiamo? Come vi ho detto possiamo dire se avvisarci solo quando rileva una persona o se sempre quando rileva un movimento. Per il resto è molto semplice abbiamo l'impostazione immagine se vogliamo avere un'immagine ma qui non andrete a toccare niente lasciate tutto in automatico. In impostazione luci potete disattivare la luce frontale. Questa può essere considerata una spy cam però penso che EasyViz per evitare che venga utilizzata per questo scopo cioè che venga utilizzato per violare la privacy di qualcuno. Allora che cosa hanno fatto? Hanno sì inserito questa possibilità di disattivare il led ma sul led di stato ma ad esempio quando si attiva la modalità notturna la telecamera comunque mostra i suoi led infrarossi e non si può disattivare questa cosa. Mentre nella versione con il cavo quindi attraverso l'alimentazione perché EasyViz non fa solo questo prodotto ne fa tanti altri invece lo permettono. Altre funzioni che ho visto mancano in questa telecamera ma penso sempre perché è una telecamera pensata per una sorveglianza veramente basic nulla di professionale. Ad esempio manca la possibilità di andare a mettere il capovolgimento dell'immagine cosa che invece nelle altre telecamere abbiamo. Penso che tutte queste funzioni siano state fatte per insomma permettere di utilizzare questa telecamera solo giusto per uno scopo di sorveglianza standard non a livello professionale. Prima di parlarvi della questione batteria e che senso ha una telecamera del genere vi mostro ovviamente la qualità visiva sia di giorno sia di notte che come vedrete comunque sono decisamente valide per una telecamera del genere. Adesso sto registrando questa clip direttamente dalla EasyViz CB2 e notate a livello qualitativo non è affatto male si riescono a vedere i dettagli e grazie ai 100 gradi riusciamo a vedere anche una ampia distanza rispetto alla posizione della nostra telecamera. È una specie di grandangolare che non è affatto male. Adesso siamo anche con una luce artificiale quindi neanche il massimo dell'illuminazione ma secondo me a livello qualitativo ci siamo. Certo l'audio non è uno dei migliori è un audio giusto per capire eventualmente che cosa sta accadendo. Vediamo anche la modalità notturna. Vedete adesso in un attimo è passato in modalità notturna. Adesso rimetto la luce e in automatico torna modalità giorno. Sposto anche un pochino più indietro per farvi vedere magari fino a dove si riesce a vedere con la modalità notturna. Sembra quasi giorno quindi ben rispettati i 5 metri dichiarati. Nel discorso batteria cerchiamo di capire perché è orientato questo prodotto. È orientato per chi cerca un prodotto non troppo vistoso e comunque interessante per la videosorveglianza per l'interno. Questa batteria è assolutamente fondamentale perché il problema principale delle telecamere di sorveglianza è che non ti permettono di avere una registrazione. Nel caso qualcuno da fuori vi vada a tirar giù il vostro contatore. Infatti se vi staccano il contatore le telecamere terminano di registrare non funzionano proprio. Ok magari qualcuno ha attivato un sistema con UPS ma voglio vedere a mettere un UPS per ogni telecamera. O fate un impianto ad hoc ed esistono questi impianti ma sono decisamente costosi oppure andate a comprare queste telecamere che hanno la batteria interna. Tornato al discorso dell'alimentazione H24 voi potete attivare la registrazione che deve registrare sempre. A proposito, dato che me lo chiedete spesso, se va a finire i giga, cosa succede ai precedenti filmati? Praticamente continuano a registrare i filmati nuovi, quelli più vecchi poi vengono cancellati. Quindi se c'è un mese di registrazione, siamo a fine mese, abbiamo finito lo spazio, la telecamera va a cancellare i filmati dell'inizio del mese. Per quanto riguarda sempre questo discorso, ci vadano a staccare il nostro contatore, nessun problema, la telecamera continua a registrare. Anche nella modalità registrazione continua abbiamo sentito che comunque riesce ad avere quelle 12 ore di autonomia. Per il nostro router comunque basta che andiamo a mettere lì un UPS solo al router, non a tutte le telecamere. E il nostro router continua a funzionare, noi eventualmente verremmo avvisati, soprattutto chi come me all'interno della propria casa ha le luci di emergenza. Se si va ad attivare la luce di emergenza, voi venite notificati dall'applicazione perché la telecamera ha riconosciuto un cambiamento. E quindi capite, c'è qualcosa che non va in casa e venite avvisati. Altra cosa, avendo il salvataggio in cloud, l'abbonamento di EasyViz che rimane piuttosto contenuto a livello economico, avete anche la possibilità che se malauguratamente qualcuno dovesse entrare, avervi staccato tutto e rubare anche la telecamera, avendo le registrazioni su cloud, le registrazioni rimangono. Quindi anche se vi vanno a fregare la telecamera, voi potete recuperare i filmati e quindi cercare di capire che cosa è successo. Potete anche utilizzare l'assistente vocale di Amazon, semplicemente per vedere sui eco show o sui vostri dispositivi che hanno la possibilità di vedere le telecamere. Basta dire, ehi assistente vocale, mostrami il nome della telecamera e lei ti mostra la telecamera. Attenzione, però nelle impostazioni dovete accedere e andare a disattivare la modalità fotocriptata. Se non andate a disattivare l'opzione fotocriptata, la vostra telecamera dirà sempre che è in stand by. Dato che utilizza servizi terzi, in questo caso dovete per forza disattivarlo. Nel complesso, cosa ne pensa di questa telecamera? Io penso che sia una valida scelta per chi ha l'esigenza appunto di avere una telecamera che nel caso dovesse saltare la luce o qualcuno staccarcela, insomma, continui a registrare. È un livello di sicurezza sicuramente superiore. Poi, il fatto che sia magnetica e così compatta permette anche di facilmente nasconderla nei punti più opportuni. A livello di software, comunque, è molto rudimentale, meno avanzata rispetto alle altre EasyViz che abbiamo visto qui nel nostro canale. Ma è pensato proprio per un pubblico non troppo esigente. Il prezzo di listino lui è di 79€, ma abbiamo visto nel canale delle offerte è anche sceso sotto i 60€. In quel caso io andrei a acquistare, anzi, vi lascio il link di entrambi, sia del prodotto sia del canale delle offerte, qui sotto in descrizione. Così, se dovesse riandare in sconto, venite avvisati. Fatemi sapere cosa ne pensate con un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!